Bene, allora la cosa che volevo cercare di iniziare, poi parliamo di Cuba, la cosa di Cuba annuncio sarà sorprendente perché alcuni credono che la mia posizione su Cuba sia dovuta a una specie di adesione più o meno fideistica alla politica estera americana. E invece è vero l'opposto. Però prima di parlare di Cuba vorrei fare una brevissima detour su questo. Io ho appena fatto, appena fatto un paio d'ore fa, in risposta a un signore che chiedeva, chiedo, a voi trovate giusto obbligare le persone a vaccinarsi? Io ho ritenuto fosse il caso di rispondere in questa maniera che ora vi faccio vedere. Abbiate pazienza un attimo che adesso diventerà tutto quadruplo, ma ecco qua. Ecco, ho risposto così. Io credo sia vero, io non credo sia giusto obbligare le persone a vaccinarsi. Perché? Uno può avere mille ragioni per non vaccinarsi, mi rendo conto che la maggioranza siano persone ignoranti, impazzite, egoiste, terrorizzate, confuse, incapaci di valutare cosa sia una probabilità, cosa non lo sia. Però non importa. Il punto è che non ritengo giusto che noi si... Ups, ho sbagliato, scusate, adesso vi faccio vedere. Che si usi l'autorità, come dire, statale, o il potere statale, per costringere una terapia medica, perché tale è il vaccino, senza ragioni di estrema forza maggiore, che tipicamente sono per salvare la vita della persona in questione. Non è il trattamento sanitario obbligatorio, tant'è che esiste tutta una legislazione a questo riguardo, a mio avviso perfettamente ragionevole, e anche se la legislazione non esistesse, io crederei così, perché non sto facendo un punto di diritto, sto facendo un punto etico-politico, Grazie. 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 Grazie.